Una nuova piattaforma informatica della regione gestirà tutti gli interventi legati all'edilizia scolastica. Lo strumento è stato presentato nel corso di una due giorni formativa a tutti gli enti locali che sono proprietari degli edifici scolastici dislocati sul territorio regionale. Al webinar formativo ha partecipato anche l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale che ha voluto verificare personalmente la funzionalità della nuova piattaforma ma soprattutto ha voluto accertarsi dello stato di salute delle scuole abruzzesi. Ci aspetta un lavoro impegnativo, ha detto l'assessore, che necessita di una stretta e fattiva collaborazione tra la regione Abruzzo e tutti gli enti locali e regionali. In Abruzzo sono 1307 con singole schede dove i proprietari delle strutture, comune e province sono tenuti a caricare tutti i dati fisici e non riferiti al singolo plesso.